Cifra di sue imminenti dimissioni per partecipare alle prossime elezioni politiche, è così, non è così? C'è qualcuno che teme la mia candidatura, probabilmente, lasciamogli pensare che ci candidiamo. Lei sta meditando qui? No, no, no. Il giallo dunque resta gamba corta, non si sbottona. Per candidarsi alle prossime politiche in programma per la primavera 2018 dovrebbe dimettersi da sindaco di Ariano, come richiede la legge entro il 24 agosto, ovviamente qualora dovesse rinunciare all'incarico di primo cittadino decadrebbe anche da presidente della provincia, ma al momento gamba corta non scioglie la riserva, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo tengono in banco le questioni più strettamente amministrative, a margine del consiglio provinciale dedicato quasi esclusivamente alla Lioni Grotta Minarda, gamba corta parla anche dei tagli che ancora una volta penalizzano le province, compresa quella di Avellino. Hanno provato a toglierci completamente l'ossigeno con tre finanziarie consecutive che hanno tolto 3 miliardi di euro alle province, non li hanno tolti a noi, li hanno tolti ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, alle persone che sono costretti ad utilizzare i mezzi pubblici per il trasporto pubblico locale, pendolari e studenti, li hanno tolti a chi è costretto ad utilizzare strade provinciali, quasi sempre in collina o in montagna o addirittura in zone particolarmente a rischio dal punto di vista idrogeologico e quello che non si riesce a far capire è che non è garantendo 50, 70, 80 milioni che si risolve il problema. Il problema era stato stimato, c'era un disequilibrio di oltre 650 milioni che non ci sono stati dati per cui noi abbiamo seri problemi come provincia in tutta Italia a garantire la riapertura delle scuole il prossimo 11 settembre.